Ogni storia ha un inizio. Scoprite l'origine del male. Perché sei tornata, Claire? I tuoi complotti non erano veri da bambini. E non lo sono ora. Dobbiamo smascherare la Umbrella. Guarda questo. Ho paura, Claire. Ho paura di quello che faranno a questa città. Alla Umbrella è accaduto un incidente. Una cosa tipo Cernobil, se capisci che intendo. La gente si ammana. Aiutaci, Claire. Fa sapere al mondo cosa succede. Dobbiamo contenere la cosa. Andiamo. Che ci faceva la bella qui? Dove facevano gli esperimenti su di loro. Ma che... ti serve aiuto? A ti serve aiuto. Dobbiamo andarcene. Distruggeremo la Umbrella. La giustacessori ie consista di qualche rogue. Cosa. Agbo White. Guarda con di velgia. Spazeremo laaderia,- Spazeremo la Umbrella. Spazeremo la Umbrella. Spazeremo la Umbrella. Una bit左, un po' di livella. Spazeremo la Umbrella-